Noi siamo in 1400, c'è un'onda rosso-blu ovunque, come potete vedere, ce ne sono veramente tanti, un'onda rosso-blu è incredibile, la partita per adesso è abbastanza tranquilla, l'importante è che 1400 persone come minimo rosso-blu, siamo tutti qua a Stodaccia Stadium, che a quelli di Udine non gli piace tanto, però intanto si chiama così. Tantissimi rosso-blu.